Per 7,5 milioni di italiani è in arrivo la quattordicesima, cioè la mensilità in più prevista tra giugno e luglio. Gli allentamenti delle ultime settimane e questi soldi potrebbero dare una spinta in più ai consumi e in particolare al turismo. La parte più consistente di questo tesoretto, di 6,8 miliardi circa, sarà infatti destinata alle ferie. Si parla di 2 miliardi di euro, cioè il 29% del totale, secondo le elaborazioni realizzate da Confese Argenti sulla base di un sondaggio SVG. A partire dal lunedì 28 giugno tutta l'Italia sarà in zona bianca. Anche la Valle d'Aosta, l'ultima regione che era rimasta colorata, entra a far parte delle aree a basso rischio covid. A stabilirlo un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia del 25 giugno. Sempre da lunedì, inoltre, fatta salva alla campagna dove la disposizione resta in vigore con un'ordinanza regionale che ha dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. A giugno 2021 l'Istat stima un ammarcato aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori, sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese. Tutte le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori sono in crescita, seppur con intensità diverse. Il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più decisi, più contenuta la dinamica del clima personale di quello futuro. Nell'industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini e le aspettative sulle produzioni. Le scorte sono giudicate in leggero accumulo rispetto al mese scorso. Si segnala una netta crescita della fiducia nel settore dei beni intermedi. Aumentano gli italiani che vanno in vacanza in giugno. Con le ultime partenze del weekend il numero è salito a 3,9 milioni, con un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend favorito dal calo dei contagi e dall'allentamento delle misure di contenimento. La stima della Coldiretti vede una netta ripresa nel confronto dell'estate 2020, anche se si rimane ancora lontani dai livelli pre-covid. Le partenze a giugno sono particolarmente apprezzate, ricorda la Coldiretti, da chi ama la tranquillità e vuole stare lontano dalle folle, tanto più considerate le esigenze di distanziamento sociale per garantire la sicurezza, senza rinunciare però a visitare le principali località turistiche. Un altro vantaggio della bassa stagione è quello di poter risparmiare qualcosa. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS